Ragazzi, questa sera ho avuto un'idea. Per poter fare visual inviterò uno streamer famosissimo, ragazzi. Uno dei migliori in Italia. Vi presento... Aaron Blades! Ciao! Andiamo e spacchiamo tutto. Facciamo un pollo? Eh, un pollo, cosa vuoi fare? Facciamolo anche arrosto, se vuoi. Intanto io faccio una bella cosa. Metto un pollino qua, così lo vedo... Sì, ma perché non è girato? Sì, dai, ci sta, ci sta. Allora, iniziamo con i colori belli e usiamo la terracotta. Vada di terracotta, vada di terracotta. Però diventa rosa, così. No, beh, i piedi li facciamo così. E poi usiamo la lana per il resto. Ok, giustamente. Quanto grandi i piedi, secondo te? Tec, così non la finiamo mai. Sono tre per tre, cioè cosa vuoi? Cioè, i piedi palmati, eh. Allora, aspetta, deve essere forse così, guarda. Ah, sì, 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 ci sta, ci sta. E così. Ah, ok, sì, facciamo di qua. Perfetto, vai. Dobbiamo farlo bene, eh. Bene, bene, bene. Le dimensioni esatte è 8 di larghezza, cioè di profondità, 6 di larghezza e 6 di altezza. E 6 è questo? Guarda. Sì. Però è 8 di qua, quindi. 8, aspetta. Però le gambe... Le gambe non sono esattamente a metà, cioè ci sono tre blocchi dietro, e poi 4 sopra, 1, 2, 3, 4, così. Ok, ah, ok, sono più davanti che dietro, perfetto. Sì, visto. Che storia, guarda qua, che è perfetto, eh. Ho contato i pixel, tec. Cioè, vedi che ci fa male fare delle cose. 3, 4 e 5 di altezza, o 6? 6 di altezza. Così. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, le alucce e 6. Io mi occupo di fare il corpo adesso, che è quadrato, giusto? Beh, diciamo che è un po'... Ha una base rettangolare. Ok, così, praticamente. Io cerco di fare le ali. Però, siccome dobbiamo fare i precisini, abbiamo anche... Che cosa possiamo usare? Il quarzo. Così usiamo due bianchi. Faccio i dettagli. Perché qua i dettagli contano. Tipo, vari tipi di bianco, no? Cioè, perché io sono pignolo, lo sai bene. Anche troppo, forse. Allora, facciamo che io faccio la struttura di base, più base possibile. Sì. E lascio a te l'onore di mettere i dettagli. Vai, vai, tranquillo. Perfetto, grande. Guarda qua davanti, è già perfetto, praticamente. Allora, le aluce le facciamo così. Vedi, è vero? Vero che cambia... Sì, guarda. Io praticamente ti porto il blocco di marmo e tu scolpisci la tua opera. Esatto. Però io ti propongo una sfida, Tecche. Vai. Se facciamo in tempo, ma fare un semino però gigante a terra... Uh, sì, ci può stare. Così lo becca. Ci può stare, ci può stare. Non che lo becca, però che tipo ce l'ha lì sotto per far cose. Ok, io qua credo che con i dettagli ci siamo. Il semino bisogna usare i verdi, quindi green di tutti i colori. Ma proprio per terra appoggiato, dici? Eh, davanti, no? Ci sta. Sì, 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 tipo green, c'è un altro... Light green c'è ancora, sì. Se io faccio tipo il semino potrebbe essere così. Io sto mettendo... Sto vedendo come è fatto un seed, perché sono pezzettini così. Sono andato fuori, un po' fuori, ma ci sta il semino, dai. Gli occhi dobbiamo farli non... La gallina, oddio. Non derp, possibilmente. Quindi black coso. Black wood. Guarda le narici. Eh? Perfetto. Che dettaglio. Ma qui, sopra la testa, c'ha qualcos'altro. Ah, un'altra riga di blocchi. Come facciamo? O li mettiamo sotto? Hai fatto gli occhi troppo in alto. Eh, ma così devo farli? Eh, sì. Eh, ok, perfetto. Mamma mia! Che precisione. Il pollo è uguale. Il pollo è uguale. Oh, non hai chiuso qua sopra. Ah, sì, diciamo che era tutto voluto. Un po' l'ho bucato, no, però. Ok, abbiamo fatto anche i dettagli, così. Però mancano, sì, un po' di dettagli in quarzo qui e là. Sì. Vale, qua li ho messi, manca qua dentro. Ti faccio a caso? Sì, sì, metti a caso dei blocchi. Beh, non è che dobbiamo essere proprio pixel perfect, come si dice, no? Esatto. Se li metto la bavetta che scende da qua. Perché sta per mangiare il suo coso. Beh, potrebbe starci. È una cosa un po' più carina, no? Come particella. No, no, anche proprio col vetro, così. Guarda, sta scocciolando così. Per farla droppare acqua. 15 secondi. Bonmi la manetta. Ma secondo me non è venuto male, eh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Eh, dai, ce l'ho messa tutta quasi, dai. Ma sì, va bene così. Alla grande. Oh! Allora, questo gli diamo il super poop classico, perché cosa ha fatto? Allora, questo è poop. Se quello prima è super poop, perché in quanti minuti, non so, si poteva impegnare di più, eh. Poi c'era tipo un circuito strano. Oh! Eh, questo è bello. Eh, questo ci va good. Eh, sì. Fa far l'uovo anche. Mi piace, questo è fatto bene. Non è il classico pollo di Minecraft, ecco. Bello, è vero? Questa più che una gallina mi sembra... Neanche questo è il classico pollo di Minecraft. Senti, ok perché ci ha lavorato, però no. Carina, dai. Ok, ok. Perché ci sono i due elementi. Ognuno ha fatto quello che voleva, diciamo. Sì, sì, noi abbiamo fatto il classico pollo con il... con la bavetta che scende. Questo è bellissimo, dai. Dai, è stupendo. Legendary. Questo invece è un po' piccolino. Ti do ok. La pappagoccia è diventata una cravatta. Sì, infatti la lingua. Bello, un bel super poop direi che ci sta. Cos'ha perso la testa? L'ha fatto il bambino della pubblicità. Che voleva petto-coscia, voleva le cosce. Allora, ci sta il good. Beh, lo sfondo da scioppino... Sì. Non c'entra, però. Però l'elettro non era male. Questo ha copiato noi, però non ha messo altri dettagli, quindi gli do solo ok. Però le zampe con il tappeto erano intelligenti, eh? Esatto. Esatto. Ci stavano. Esattivamente. Questo anche ci ha provato, ma... No, questo è brutto, dai. Questo è bruttino. Non ha neanche spawnato di fianco la gallina per copiarla. Infatti. A me non ho... Oh, è questo? Oh, l'hanno spennata. Che ansia. No, poop, non mi piace da te. No, che ansia. Povera gallina. Poi c'hai i piedi anche attaccati. Quarti? Eh. 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 Io voglio jellyfish. Oh, ha preso jellyfish. Hai visto? Allora, jellyfish, vetro. Tanto vetro. Colorata la parella. Vetro, ma dentro terracotta. Prendo della handstone, della sabbia, e vado a mettere un po' di... La glyzed ce la fa usare, secondo te? No. Andiamo, non abbiamo niente. Eh, no. Purtroppo no. Beh, le spugne e un po' di lana per fare dei coralli. Adesso io qua sopra devo fare la jellyfish, che è una specie di... Cos'è? Una semisfera? Sì. Una mezzasfera. Sopra potrebbe essere una semisfera. Grande, abbastanza. Tanto c'è abbastanza tempo da qua. Sì, beh, vediamo. Perché non è che è così semplice, eh? No, è vero. Ho dovuto fare la semisfera. E tu pensi che in Minecraft le semisfere siano cose semplici da fare. E invece... Ecco, ormai mi escono dalle orecchie le... Le semisfere, sì. Dagli occhi. Sì, non dalle semisfere. Cioè, sono stato lì a vedere tutte le misure esistenti ultimamente. Anch'io. Per la serie della Jurassicraft ho fatto le cupole. Fai te. Eh, esatto. Quindi con le cupole è un macello. Una bella medusa rosa non era meglio. Eh, adesso la mettiamo rosa. La possiamo fare di vari colori, eh. Anche, sì. Quindi pink. Andiamo a prendere il pink stained glass. Vuoi anche i pesci? Oh, no. Sai cosa vuoi fare? Le alghe potresti fare. Delle alghe... Tec, ci prova. Però tu devi fare l'intera medusa da solo. No! Sì, sì. Ci vediamo dopo, Tec. No! Ti prego. Però qua bisogna fare la cupola e quella noi non so fare. La cupola! Chiamamo oggi. Ci vediamo oggi. Esatto. La cupola. Però ce la posso fare. Sono un pro di Minecraft nella costruzione delle cupole. E non sto usando uno schema. Sto usando uno schema mentale per farlo. Lol. Il che potrebbe essere fallimentare. Oh, ce la sto facendo. Guarda che roba. È anche precisa, eh. Tre minuti, dai. Tre minuti. Poi bisogna aprirla e mettere dentro... Sai cosa ci mettiamo nella medusa? Ci mettiamo le... 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 Le luci. Perché sai che ci sono anche quelle un po' fluorescenti di meduse? Ci sta. Quindi qua facciamo così. Cioè, se non sono un pro delle... Cioè, guarda. È perfetta! Bella, bella. Adesso qua mettiamo il tentacolo anche di qua. E adesso vado dentro a mettere le sealantern. Un po' a caso. Ci sta. Io farei anche notte, sai, Eren. È vero? Così, sai, il fondo al mare non c'è tanto... Allora mettiamo delle sealantern anche attorno nella location. Sì, 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 si può starci. Ok. Perché prima cerco di mettere un po' sti coralli. Guarda, secondo me non è venuta male, eh. No, Tec, devi rifarla. No, perché? No, sì, scherzo. È bellissima, secondo me. Le sealantern, mettiamole qua. Manca pochissimo. Eh, ma ci siamo, eh. È stata più dura del previsto, Tec. Faccio anch'io, ti aiuto. Eh, sì. Metti un po' di sealantern magari nel fondale anche, se ce l'hai già in mano perlomeno. Ok. Mi sono dimenticato della notte, ci arrivo. Sì, 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 vai, vai. Intanto io faccio le alghe qua. Sealantern adesso le metto. Faccio anch'io. Secondi. Ok, sealantern a caso. Le ho messe un po' qua e là. Nelle cose. Ah, bravo che hai usato la lana, così abbiamo due varianti diverse. Esatto. Sì, sì, sì. Le sealantern le metto dove hai messo i corallini, così vengono... Notte, la notte, la notte. Sì, metto subito notte, così abbiamo un'idea. Sì. Di dove vanno messe. Ok, qua. Facciamo una bella illuminazione. Guarda che bello, guarda che bello qua. Che fettino. Io manco ho guardato la medusa tra un po'. No, no, tranquillo. Ci siamo, ci siamo. Perché c'è un blocco giallo sopra? E l'ho cambiato il colore. Vabbè. Lol. Allora. Ma c'è. Eh. Dopo che abbiamo fatto sta roba... Poop. Un livello di criticismo. Sì, sì, qua c'è... Alla grande. Eh, no, no. Poop, poop. La nostra... Eh, dai. Piove sott'acqua. Piove sul bagnato. Esatto. Poi con la pioggia, scusa. Le meduse. Cos'è? L'hai fatto spogge, Bob. Cosa c'è? Ma cos'è? Super Poop. Ma dai, un pagliaccio. Cos'è? Voleva assomigliare alla nostra, ma guarda. È la versione cheap della nostra. Esatto, esatto. Bravo. La versione... Questa è grande. Non è male. Gli do... Questo è un cervello alieno che ci vuole... Però gli do ok, sì. Perché... Guarda, ha usato questi micro blocchi che non ci abbiamo pensato noi. Ai micro blocchi ci stavano. Ma perché SpongeBob? Perché? Perché? Eh beh, ha fatto le jellyfish di SpongeBob. Facciamo ok, dai. Perché stanno sull'erba? Eh... Una... Non vorrei dire una parola brutta, ma è una schifezza sta cosa. Sì, ma è un po' sbagliata, diciamo, non so. Eh... E questo cos'è? La leg zampe? Non può essere... No, scusate, sono molto critico in questo momento. Beh... Cioè... È faticoso, eh. È... Cioè... Questa... Cioè... È un altro livello, dai. È un altro livello. E dai. È anche illuminata. C'è dentro tutto. Però ci hanno dato super pupo. Gli ho visti i rosiconi. Davvero? Sì, sì. Questa no. Allora, questa è bella. Perché l'ha fatta pucciosa? Sì, però è fatta anche bene, dai. Sì, sì, dai. E questa... No, questa no. Questa è la Tano. Ha fatto la cosa la Tano, quindi super pupo. SpongeBob ancora più semplice. Oh! Abbiamo vinto! Con anche un discreto distacco sul secondo, ma... 50 pucci sul terro. Oh, yeah! GG! GG! Master Builder. Ragazzi, non potevamo che vincere la seconda partita perché la nostra bellissima medusa era davvero fantastica. Grazie, Eren, per aver aiutato a costruire e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!